Bene gente, coltiva la vettura di Mass Effect Andromeda La vettura che ci ha portato su IOS alla ricerca di informazioni e poi ci ha fatto disperdere In una marea di missioni di quest che abbiamo trovato sul pianeta Allora raga qua il pianeta è vastissimo, io qua ho visto che ci sono altre missioni ancora da far partire Però noi in questa parte ci occupiamo dell'Arcaturian, cioè Asari E terminiamo però questa missione che avevamo iniziato che è fare colpo Dobbiamo praticamente sistemare tipo dei martelli sismici che praticamente permettono di creare l'irrigazione sul pianeta Cioè irrigare e far arrivare l'acqua E sono davvero curioso di sapere se poi effettivamente Eccoli che arrivano Poi cambierà ancora di più l'ambientazione perché creando questi martelli Qua c'è gente Mettendo questi martelli dovremmo poter riuscire a irrigare il pianeta Quindi magari potrebbe diventare bello e raggiante C'è un po' di più Siamo liberi cittadini. Sono un po' di parte. non lo so raga sinceramente raga mi è saltata la corrente in casa non mi ha registrato un pezzettino comunque niente ho scelto di non non c'è stato nessuno nessuno scontro con quei tizi ho scelto di non di non fare esplodere il gas ma di piazzare il secondo maglio qua ok adesso dobbiamo ritornare qui dove c'era la la capsula e piazzare il terzo maglio però non è successo nulla di che semplicemente mi aveva anche se farlo o no ho scelto di non di non farlo e allora niente maglio sismico scuola il terzo poi dovremmo aver finito sfiggi l'architetto oh merda bella madonna merda ecco cosa che causava i terremoti c'era questo mostro gigante sottoterra madonna quello che ci voleva come quello che ci voleva questo ci apre il culo merda 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 che fa? che fai? merda merda glo non ci sono neanche potertura ah 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 un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo non mi sparare è toccato ok ho le munizioni oh 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 oragano io prendo un attimino le distanze porca croia dove è prendo un attimino le distanze oh cannone 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 Quando copertura, quando copertura Eh, arrivo nei tizi Ma così va Magari Ah, di granata Ok Ahia, 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 ahia Ah, di qua? Deve andare di là Vai, 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 corri, zio Corri e spara, corri e spara Merda, 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 ce l'ho davanti Qua bisogna andare di Soned C'è un'arma devastante Non ho copertura però qua Rinforzi Ok 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 in mano, perfetto target Merda, 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 mi apri Vai, vai, vai Via, via, via Via, via, via Porca vacca Porca munizione, porca munizione, adesso ho le munizioni Qua, devo cambiare, ok Allora, vai così Vai di granata Vai, vai, vai Vai, vai, vai Andato Vai, vai, vai E raga, ma si sposta così Ah, bobo bobo, mo' sono vicino alla gamba Rivegliamolo con questo Morca vacca Ok, mi sa che Poi l'abbiamo fatto male, allora Giro di munizioni Salute Non lasciamolo scappare Ah, ma se n'è andato Un attimo, un attimo, un attimo Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo Porca vacca, porca vacca Capito, bravo, vabbè, arrivo C'era la salute, c'era Ah, ok, questo c'è Ok, perfetto, c'è la capsula qua Vai, 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 vai Merda Ma se mi prendo il nomad Mi prendo il nomad Ma scusate Andiamo, andiamo a prenderlo Vai, 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 vai Ah, si è chiuso Merda, ma sono qua No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ma facciamo così va vai via no drac mi è bloccato sono morto sono morto sono morto copertura 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 dov'è la salute qua madonna ancora rinforzi no raga un attimo un attimo mi serve della salute non si può andare avanti così mi serve della salute qua non ce n'è eccola eccola vai salute ripristinata dai pezzo di merda apri quella boccaccia ah ci sono ancora questi le bande da l'altra parte da l'altra parte dove va ma se ne va seguiamolo guarda guarda prendiamo la munizione dove è il nomad ma è qua vicino no 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 ho fatto male è baccardo no 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 non va bene così granate dai 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 granate avevo finito la munizione vai la salute io avevo visto della salute qua avevo visto della salute ok dai 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 una lezione no 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 non va bene non va affatto bene no non va per niente bene hai coperto la gamba dov'è la sua luce qua vabbè un pochino me l'ha caricato un pochino me l'ha caricato muore un bastardo dai che salta abbassiamo se non è ancora morto no 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 vai vai vai, corri, corri, corri! Salute! Ottimo! Vai apro quella boccacia di merda! . 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 Allora raga su iOS ci sono una cifra di missioni secondarie Che al momento io metto un attimo da parte Ok perché sono veramente tantissime E adesso vedo un attimo magari mi faccio una stream Mi imbottisco di caffeina mi faccio dal tramonto all'alba Tutte le missioni presenti su iOS Adesso noi in questa partita vogliamo terminare quello che aveva iniziato nella partita precedente Ovvero cercare l'arca perduta Quella degli Asari E un contatto Il contatto su iOS Ci siamo persi nelle missioni secondarie Ci ha detto che hanno informazioni su World Ok quindi C'è sta cosa carcassa dell'architettacolo che avevo sconfitto nel Però questo qua l'avevamo già preso tutto E Andiamo ok Core Harper Arcazari Conosci il tuo nemico Ok E va bene così Direi di sì Magari visto che ci sono in ballo le Asari Magari facciamo Prendiamo un Asari E prendiamo Pibi E lei era quella interessata Lei è quella che Più che altro è interessata alla ricerca delle arti Quindi ci la teniamo Cerchiamo di tenere Personaggi coerenti Cioè almeno Sto provando a tenere Personaggi coerenti Con la storia No? Ok Le due principali interessate in questo caso sono La Asari E la Nostra amica bionda che Ci vogliamo limonare Niente Andiamo al contatto Ok raga Allora Si Trova qui Luogo completamente Inesplorato A quanto pare Perché sto qua C'è una zona buia Ok raga Allora Adesso Mi ricordo vagamente Che ho letto la descrizione Praticamente Ve lo racconto Vi faccio vedere un po' L'ambientazione Che è bellissima È una nave Che si è sganciata dall'Arcasari E è atterrata qua E Questa nave appunto Quindi potrebbe darmi Informazione Non c'è nessuna tizia È la Par Buona Vuole essere il nome Della nave Vabbè Tipo essere Qua sopra Credo Ci siamo quasi Trova l'origine Del segnale Il vero segnale Tra l'altro Ce ne sono quattro Quindi di vacculo Cioè io vado in giro E li cerco Vacculo Cioè io vado in giro Se li trovo mi va bene Se Se non li trovo Mi va male Cioè io vado in giro Cioè io vado in giro Cioè io vado in giro Ci siamo Ci siamo quasi Eccolo lì Ma tanto Stavo per dirlo Col culo che ho Non sarà sicuramente questo Che è tra questi rottane Quindi magari è il posto giusto Un'altra falsa reading Ah Che palla Niente Don't worry Wow Il dinosauro Ghiacciolo Il dinosauro Ghiacciolo Trova il transpor Eccolo qua Vai 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 Spettiamo il culo Eccolo qua Perché mi pushate lo zip Baccardo Ah no 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 Faccio vedere Le maniere pesante Dietro È morto No Invisibile Oh 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 Eh vabbè Devo stare Un po' qui in copertura Finita? Finita Eccolo Eccolo Analisi Transporter Vabbè Usiamolo Nooo Quindi No Siamo arrivati tardi Il bersaglio era la nave È come se i cat sono mostri Il bersaglio era la nave È come se si vengono Il perifona Ma non è un match Per un cat cruiser Ok Ok I cat amano i titoli pomposi E' una buona pista E' una buona pista Ok attenti che cosa è De codificare il transponder Ok Allora raga visto che ci troviamo su Vold Un combattente della Residenza Angara Desidera parlare con te su Vold E quindi ci facciamo anche una chiacchierata Anche con lui Andiamo a vedere di che si tratta E poi vediamo se Ritornando all'astronave Poi effettivamente Sarà possibile recuperare Tracciare il percorso dell'Arca Azari Ok raga ritorniamo Ritorniamo nella base Mettiamo che ha da dirci il nostro socio Rilis? Altre elevazioni, tutti i cat sono un problema Altre elevazioni Vedrò cosa posso fare Grazie Ryder, vi mando il navpoint immediatamente Buongiorno, sei il pathfinder, sì? Sono Rojois Lin Perchè pregare in privato? Perchè pregare la religione in pubblico? Icchi che sono slaveri a Kett sono scoperte di esprimere Siamo ammigliare l'isolazione da praticare in privato La fede è anche più forte quando nessuno lo vedrà È un'amore Ti dico fortuna e coraggio, ma sia chiaro il tuo cuore Mi sembra di preoccupare Oh, Pathfinder Rider Stavo parlando di una benedizione per due dei nostri soldati Giurati da Kett Molti morti o disperati Ma questi due corti sono ancora più profondi Li conoscevi bene Se guardi ti lascio sola Se guardi ti lascio sola Se guardi ti lascio sola Aspensa È tutto bene La parola di grifo lo sceglie Questi figli sono diventati Una nuova credenza che ha preso Un uomo troverà Con la reincarnazione Ma alcuni pensano che possono forciare Si comportano in modo folle Si comportano in modo folle Fai ciò che puoi per salvare loro da morte E' tutto ciò che nessuno può fare Raga torniamo sugli ostornavi Vediamo Se il discorso dell'Arcasari viene elaborato in fretta Oppure se ci vuole un po' di tempo Allora raga ho un botto di punti esperienza da utilizzare Ho praticamente sviluppato il personaggio così Pronto a combattere che è un'abilità passiva Praticamente mi potenzia gli scudi Mi dà la possibilità di trasportare armi in più Mi rigenera la salute più velocemente E posso trasportare ancora Mi diminuisce il peso Quindi la gestione del peso delle armi E confermo Adesso io sono andato un attimo in giro A parlare con l'astronave E con i membri dell'equipaggio Ma ancora non c'è nulla da fare Per quanto riguarda l'Arcasari Quindi io a questo punto procederei con le missioni principali Allora prima di procedere Abbiamo questa missione qua Di Liam Di sviluppare il progetto di ricerca Liam Cioè una corazza speciale Che mi aveva chiesto di sviluppare Adesso dato che abbiamo Ehm Certo di ricerca ok Sviluppo Abbiamo tutti i materiali Ok Andiamo a farle questa qua Conferma lo sviluppo Il progetto è stato aggiunto il tuo inventario Ok Abbiamo la corazza di Liam Ehm Bisogna vedere quante fighe a questo punto Ok andiamo a farci una chiacchierata Vabbè Lei non mi dice più nulla Per quanto riguarda l'Arcasari Mi sento fuori luogo Mi sento fuori luogo Posso portare il poncho? E' un rovshin E non Perché? E' religioso? Cosa? E' personale Non è permesso Perché di status? O di specie? Magari E' due Ehm Tutti gli uomini siano uguali? Alcuni di voi siano uguali Wow 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 Non finirà bene Che diavolo siete facendo? Non finirà bene Ha ha Hm 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 Speriamo che non dia problemi Aria non approverebbe Speriamo che non dia problemi Ok, ho un po' l'intento No harm, no foul Se Jarl fosse offendato Io sarei sul floor Io prenderò questo tipo di honest Abbiamo molto da imparare È parte di quello che il nostro team È meglio ora Che quando le vie di persone sono in linea Impressione principale Quindi dobbiamo praticamente Tornare dagli hangar E portare la monshire Io dico la monshire Ma poi magari si pronuncia in tutt'altro modo Quindi Spero sia corretto E quindi dietro raga Si torna sul pianeta degli hangar Corteggiamento Vabbè dai proviamo Lo speravo E se l'ho pensato Questa è Una Una bella domanda Solo pensato No No Ho sbagliato raga Ma no Non posso più Corteggiamento Parca vacca Non molla Non molla Bisogna martellarla Adesso ogni volta Che torniamo sulla strana Ve la martelliamo Va bene Niente raga Quindi Ci dirigiamo Ok Ci dirigiamo Al pianeta degli hangar Eccola qua Oh Ah No Oh No No Ok raga Si sbarca Adesso in teoria Dovrebbero darci indicazioni Per quanto riguarda Il La cripta Ok Ora che abbiamo Tenuto la fiducia Degli hangara Dovrebbero Permetterci E supportarci Per entrare in questa Cripta Che avevamo visto Che Era ancora funzionante A differenza delle altre Che abbiamo dovuto Riattivare Per entrare in questa Stars and skies light our way. Stars and skies light our way. She knows how to play to a crowd. She's the most shy. Welcome home. I never thought I'd see it again. Without the resistance and the pathfinder, I wouldn't be here. Ho fatto io il grosso lavoro di squadra. We made a good team. We freed more than just the Moshai. And the pathfinder killed a Ketlida. We have a lot to celebrate. I promised to lead the pathfinder to ISVOLT. Non ci fretta, beh, solidali, dai, non ci fretta. You're still recovering. Take your time. I'm not going anywhere. Not with our help. I'll prepare the vault for your arrival. A shuttle will bring you to me when it's ready. Thank you, Moshai. We've been alone against the Ketlida for too long. You've proven it doesn't have to be that way. It's time we discussed an alliance between our people. È un'ottima idea. We're happy to make room for you on the Nexus. We'll provide an embassy here as well. Our city is open to you. Join us. Well done, Joel. Report for reassignment. I need to stay with the pathfinder. È il benvenuto sulla mia nave. Joel has already become a value member of my crew. Of course he has. I see the benefit. Request granted. I need to file a mission report. Don't leave Aya without me. Non lasciare Aya senza di me. Ok. Allora, 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 allora. C'era una missioncina secondaria. Ok, questa qua è la navetta, raga, che ci porta direttamente alla cripta. Sono davvero curioso di vedere tutto quanto. Qua abbiamo varie missioncine. Questa qua è tutto da esplorare, credo. Allora, queste qua erano le armi che è. Questa qua la chiudiamo in fretta. E ci facciamo una chiacchierata. Ho una buona notizia. Tu è il servizio, Keldo. Il cedro lo ha fatto. Grazie per confermare come si morta. Hai i servizio? Servizio? Il tuo amico è morto, non ti importa? Mi chiamavo per Keldo prima di te trovare il corpo. L'ha sbagliato per la resistenza. Morto perla. L'ha sbagliato per l'amico è morto. Il cedro aveva i vostri armati. Sì, tutti. E sei honesto, Pathfinder. Reliabile. E direi a Aphra che hai fatto bene. Quanti più di questi testi ho avuto? Non crediamo a le sbagliate. Nei che trovare le armati dove loro appartengono. Ma Keldo vuole mi chiede a te aiutare. Ho cose che puoi usare, e voglio vedere i vostri creditori per me stesso. trade? Le risorse sono scariche per noi. Se prendi i creditori, io trade. Quindi sto tizio adesso mi fa da mercante, quindi posso comprare e vendere le cose. Ok, al momento non ci interessa. Ora, le porte che qua inizialmente erano chiuse perché eravamo tutti in capitano. C'è sta roba, scusate. Computer comandante del porto, USA. Che le porte prima qua erano tutte perché non si fidavano di noi. Adesso è possibile accedere liberamente all'area. Raga, sta nave, cioè sta nave, sta base è bella, bella. Oh, che spettacolo. Bellissimo. Mi piacerebbe molto... Vabbè, comunque adesso ci andremo, lo esploreremo un po' il pianeta, quindi... Ci facciamo una chiacchierata con questi due personaggi che magari ci danno delle missioni. Sentenze e sanzioni. Vabbè. Voglio sapere di più. Parla col giudice, parla... Leggiosanze. Cioè devo chiacchierare con questi tizi? Vabbè, questo qua è giusto un pretesto per esplorare... Per esplorare la... La location, non mi sembra una cosa così... Vediamo questo che da dire? Questa è un'altra missione, tra l'altro, eh. Giudice. Arbiter Renav mi ha detto di aspettare a te. Ho preparato un datapad che dettagliando le leggi. Le leggono. C'è un dato, quelle fondatorie... Ma mi sembra un'ambizione proprio di quelli interessanti. Vediamo... Ok, raccoglio i messaggi... Ok, vabbè, raga, questi io me li faccio per i fatti miei. Tanto qua, un po' la base ve l'ho fatta vedere che è molto carina. Poi qui si tratta semplicemente di raccogliere dei messaggi. Vediamo qua. Chi ha questo? La Moshe will be waiting for you at the vault. While I'm here, maybe we can talk? Of course. I owe you that. When I first escorted you through our city, I wasn't sure it was the right thing. But you proved I was wrong to doubt. No, more than that. You didn't have to save the captives from Exaltation. I wonder if you realize what that meant to us. We're in this together. The initiative wants to help. I want to believe it. You're so different from the Ket. What can I do for you? Va bene, raga, niente, io ho svolto un po' di mission in Cine, un po' così. Ci salutiamo qua, perché visto che sto giocando da un po' di tempo, parecchio. Nella prossima partita ci dirigiamo alla cripta. Io, come sempre, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi va di supportare il canale con l'inscrizione, fa sempre piacere. Ci salutiamo con questo splendido panorama, davvero splendido. Alla prossima. Bella.